Questo programma è offerto da Callaghan Adaptation La scarpa più comoda del mondo La scarpa Callaghan Adaptation Total grazie al suo sistema unico al mondo si adatta alla pianta del piede e con una distribuzione omogenea del peso riduce del 50% la pressione sul tallone e sulla zona dei metatarsi Grazie a Callaghan Adaptation i tuoi piedi tornano a sorridere Migliora la tua salute camminando con Callaghan Adaptation Arti sonanti Media musicali di Ernesto Giannotta Il gusto che suona è Arti sonanti Piazza Vittoria Emanuele II Catania Telefono 095 35 23 711 Centro commerciale ed ile Smontaggio amianto e bonifica sito Linea vita Sistemi anti caduta Lavorazione ferro Trasporto conto terzi Materiale ed ile Strada provinciale per San Giovanni Galermo 167 A Mister Bianco Catania Per sopralluoghi Preventivi gratuiti Telefona 095 744 2740 Il tuo Centro commerciale ed ile www.ccedile.it Baccalluzzo e venti La pirotecnica scenografica Lo spettacolo si veste di oro solo da Baccalluzzo e venti Via Enrico Pantano 47 Catania Telefono 095 715 0414 Telefono 095 715 0414 Trucchetta, Paolo, Berlardi, Berlardi Sì, campioni del mondo Soltetto del mondo Good morning volley Le pizzo sotto rete La pallavolo secondo Globus Radio Station Guida al mondiale E buonasera Benvenuti a Globus Radio Station Oggi è martedì Commentiamo come sempre il mondiale Su Good morning volley Donatella Pizzo E tizia Napizzo Sempre devo ricordarvi Mi obbligo a non ricordarvi Potete anche vederci in streaming Su www.globusmagazine.it Slash radio Oggi La chat E abbiamo anche la possibilità Sì, di interagire con voi Con la chat Siamo pronti a eventualmente rispondere A tutte le vostre domande E oggi siamo un po' in crisi Perché il nostro ospite L'ospite atteso Maurizio Ninfa Pallavolista Presidente dell'Expo Bit Ricordiamolo Ancora non ha dato notizie Fortunatamente il nostro altro ospite telefonico Ciccio Greco Dovrebbe già essere in linea con noi Da Modena Pronto? Ehi Ciccio Ciao Come stai? Ciao a tutti Ciao Bene Voi? Benissimo Grazie Benvenuto su Globus Radio Station Allora raccontaci tutto Il mondiale Visto Dalla tua angolazione Da dietro le quinte Tu sei stato a Roma Sì che dire Il mondiale è sempre il mondiale Si vivono emozioni fantastiche Sono stato a Roma come prima tappa Il Palalo Automatico ha ospilato l'Italia Come prima avventura Soltanto da dire che Sabbo del Domenica Abbiamo avuto sabato 11.000 persone Che hanno cantato l'inno Che hanno spinto l'Italia Una cosa bellissima E invece Domenica 10.000 persone Che hanno assistito a un'Italia Repubblica Domenicana Veramente Veramente emozionante Bella partita Hanno vinto le Dominicane Brave loro Brave loro Ma tanto il mondiale è ancora continuo Si ha allontato L'Italia a Bari Io invece Sono a Modena Sei a Modena Ma questo non è il tuo primo mondiale Hai già fatto una stessa Io già nel 2010 Ricordo Sì ho avuto Questa bella esperienza da fare Prima a Catani E poi a Roma La fase finale A Reggio Calabria Bello Bello veramente Sono delle esperienze Delle esperienze Perché poi si vivono Anche a mezzo di particolari Certo Cosa ci puoi raccontare Di particolari Dietro le quinte Il tuo ruolo Cosa fai Ma niente Cosa ti occupi Allora Dimmi Sì Intanto il mio ruolo È quello di Competition Director Che sostanzialmente È una figura Nominata dalla Federazione Nazionale Che si interfaccia Con la Federazione Internazionale Sì Con l'EFWB E si occupa sostanzialmente Di garantire Che lo svolgimento Dell'organizzazione Dell'evento Piuttosto che Le varie situazioni All'interno del campo Dalla pubblicità Assistito ovviamente Poi dai marketing manager Piuttosto che la stampa Sia diciamo Soddisfatta Che tutto Venga È seguito Secondo il protocollo E rispetto Del regole Bla 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 Un bel impegno Comunque pesante Penso Divertente Quanto altro Però Ho una bella responsabilità Ma un impegno Un impegno del genere Un'organizzazione del genere Ovviamente Richiede anni di lavoro Tu quando hai iniziato Per questo evento? Guarda Ti dico Che nel 2010 A Catania Il mondiale 2010 Abbiamo iniziato Già due anni Prima Dell'inizio del mondiale Per questo mondiale Siccome Diciamo In Italia C'è stata la World League Sono state anche Tante varie altre tappe Nelle serie del mondiale Si è iniziato Un annetto prima Un anno prima Però già Con società Che erano Con società Che erano pronte Da togliere il mondiale Quindi già Diciamo che Siete rodati Ecco Non siete Esattamente La prima serie È rodata Ma siete sempre Gli stessi Oppure ruotate? In solito Il corpo principale Sono sempre Gli stessi ragazzi Alcuni impiegati federali Altri nominati Per l'occasione E poi ovviamente Sulle varie tappe I comitati organizzatori locali Si interessano Per tirare fuori Le figure Eccetera Eccetera Va bene Ciccio Cosa ci dici Di questa nazionale? Tu l'hai vista? Probabilmente hai seguito Sicuramente più di quello Che noi possiamo vedere Attraverso la televisione Cosa ci dici? Che sensazioni hai? In televisione Poi tutte le emozioni Alle spalle Di vari ritmi scaramantici Certo Piuttosto che il team manager Che si chiede Sempre allo stesso posto Ah sì? Che insieme Insieme facciamo sempre Le stesse mosse Quindi tu mi consegni Prima quel documento Poi mi dai Quell'altro documento E lo pieghi in questa maniera Tutta un po' Una serie di Ma è vero che C'hai sempre La stessa gravatta No? Quello O sì? No 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 Prefisco cambiare No Quello no No perché ci sono Queste cose scaramantiche C'è tutta la cravatta Queste cose qui No O i calzini Messe al contrario Non so Quando si giocava I calzini Messe al contrario Comunque Però i gesti E i riti Esistono Esistono Ci sono Come da tradizione Nella pallavolo Chi ha giocato Io avevo sempre Lo stesso orecchino E quando non l'avevo Perdevo E diventavo Speraglia Ma una domanda Ma no Piuttosto che Consuelo Mangifesta E anche Maurizio Colantoni Durante la partita Allora Si mettevano La cuffia In questa maniera Professionavano I fogli Sempre in quell'altra maniera No Gente simpatica Certo Troppi dei retroscena Che veramente Rendono il mondiale Oltre ad essere Prestante Perché si lavora Veramente tanto Anche è bello Perché si riesce Ad avere una atmosfera Ci riescono a trovare persone Troppo troppo bello No Ti volevo fare Una domanda Personale Nel senso che Tu quando fai Quando organizzi Questi eventi Così di questa portata Così importante Ovviamente Ti trasferisci Cioè tu vivi fuori Sei catanese Ma vivi Io vivo a Catania Vivo a Catania Se volessi intraprendere Insomma Questo tipo di attività Questo lavoro Che fai tu Che cosa Cosa dovrebbe fare Per arrivare Allora Io Ovviamente nasco Con il Fus Catania Poi divento Dirigente al Fus E poi Consigliere in federazione A Catania Sì E nel 2006 Fu istituito Un corso di formazione Per competition director Furono prese Sette persone Sette persone Da tutta Italia Siccome c'era necessità Di queste figure Anche in previsione Del mondiale Abbiamo fatto Un corso di formazione Ad Alassio Un'occasione Siamo formati E siamo 5 persone Che giriamo Diciamo In tutte le tappe Quando ce n'è bisogno E ci dividiamo Un po' il lavoro Da fare Bello E quindi Ora ti sei trasferito A Modena Sì Adesso siamo a Modena Che girone c'è Di fare che lei Ci sono gli Stati Uniti No? Sì Allora Praticamente Modena Modena e le varie sedi Che sono Bari Verona e Trieste Si divideranno A stavolta Altre due fasi Io nella prima fase Qui a Modena Ho la Russia La Turchia La Bulgaria E gli Stati Uniti Gli Stati Uniti Quindi diciamo A parte il Brasile L'Italia Quelle che probabilmente Sono destinate A Penso che tutti A Russia E gli Stati Uniti Si potrebbero Sicuramente Andare Noi abbiamo Abbiamo visto In televisione Una stellare Sfida Tra Stati Uniti E Russia Veramente A altissimo livello Si si ma Ho visto Gli allenamenti Sono veramente Veramente Forte Queste due squadre E poi Ieri abbiamo fatto Un team In drifting Con le squadre C'era L'idolo Catch Killary Che quando Io l'ho visto Veramente Sono rimasto Impietrito Ancora Un bambino Da questo punto Di vista Un bambinone Quando vedo Gli idoli Ancora Rimango Con la Vabbè Catch Killary Per chi Mastica Palla a volo Non rimani Basito Davanti a lui Allora sei proprio Senza cuore Non ne capisco niente E invece E invece So che Con cielo mangi fette Non so se Geseo mi ha detto così Siccome lei sta cercando Di fare Questo famoso museo A Milano Della storia Della pallavolo Per mille Ci ha contattato E stava impattendo Perché doveva trovare Trasporta delle maglie Delle maglie Cercava le poppe Di madera Infatti mi ha detto Ah come devo fare Sono impazzita C'è uno stress Ci ha contattato Per avere il materiale Per avere almeno le maglie Io credo Di avere forse Ancora la medaglia Di campione d'Italia Di quello scudetto E poi Forse Degli articoli Si sta occupando Di sta cosa Di sta cosa carina Di fare questo museo Del volley femminile Lì Nel capo Del palazzetto Della fase finale Del mondiale E quindi E invece Ciccio Di Catania Di Catania Di questa povera Catania Che ci dici Tu sei dirigente del CUS Allora Catania Quando io dico che vengo da Catania Ti fanno di bella Bellissima Fantastica città Dico è vero È vero Si potrebbe vivere meglio Ma è vero Io a Catania lì Sono col CUS Sono ritornato Diciamo a Lovila Al CUS Stiamo cercando Di portare avanti Un progetto Insieme a Daniele Caniglia E due più passi allenatori Penso che abbiamo a Catania Sono Daniele Davisardi E Maglia Li ha detto tutto Cioè il curriculum È il nome Non c'è bisogno Di altro curriculum Io vi sento Un po' lontane Ci senti ora? Adesso meglio Sì Adesso meglio Sì Tanta voglia di fare Partiamo quest'anno Facciamo un under 16 Una seconda divisione E poi Tanti bimbi Del centro addestramento Che cura Maglio E la parte femminile Che curano insieme Maglio e Daniele Quindi cerchiamo Un attimino Di ripristinare Il vecchio CUS La vecchia Gloria Ecco Vediamo un attimino Se riusciamo a farlo Ma ascolto Un'altra domanda Ti volevo chiedere Visto che comunque Non ci sono squadre Di grande livello Purtroppo a Catania Siamo un pochino Rimasti indietro È per questo motivo Che comunque Restiamo fuori Anche dal grande giro Degli eventi internazionali Oppure ci sono altre motivazioni? No no Ma non è perché Mancano le squadre È perché bisogna Ovviamente accontentare Un po' tutta l'Italia Quando Quando riesce a fare Quando sport Ho capito Tutta l'Italia Ma qui sotto Siamo completamente esclusi World League Girone Mondiali 2010 L'abbiamo avuto I maschini in Girone Siamo nel 2014 Sono passati 4 anni Possibile che non ci sia Ci sono tante richieste No? Sì Ci sono tante richieste Poi Non so Dovrebbero anche arrivare Gli europei Però adesso Non so Che sono saltati pure quelli Per l'anno prossimo Quindi di grandi eventi Al momento per il 2015 Mi pare che non siamo Dai arriveranno Arriveranno Non arriveranno Allora è una promessa La prendiamo come Un tuo impegno Portare a Catania Non mi fate dire E ora ti dobbiamo invece fare dire Chi vince il mondiale Almeno questo Almeno questo Vabbè L'Italia a parte La finale Secondo te la finale Lo segniamo Secondo me la finale Italia-Russia Italia-Russia Quindi Stati Uniti Tu li metti fuori Stati Uniti e Brasile Out? Sì Secondo me Italia-Russia Ti dà la Russia Un buon progetto Ovviamente La Russia è molto messa bene E l'Italia A questo punto Mi sbilancio Mi sbilancio È il mio fantavolley L'Italia messa in campo Però quella del Secondo set Contro la Germania No La penultima partita La Germania La penultima partita Con piccinini fuori Con piccinini fuori Quindi Quindi Lo bianco Giuff Sì In diagonale E poi del core Costa Grande Di mano E la Cirichella Insieme alla Vietti Allora Secondo te questa La vedi più tonica In questo momento Io l'ho vista La vedi più tonica Ho visto una bella nazionale Sì 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 Indubbiamente Rientro Ovviamente Loro hanno anche Grazie a Dio La possibilità Del doppio cambio Con Noemi Signorile Che anche me Lei è in gran forma Quindi dico Non hanno problemi Dette le danno una panchina Che hanno un palmaresse Invidiabile Non dimentichiamo La formazione editorale Quella là Mi è piaciuta molto Non dimentichiamo Anche la spinta Del pubblico Che ci aspettiamo Ovviamente Un po' come la Polonia Che è arrivata Alla finale Spinta Da tutta la La Polonia Lì I mondiali in Polonia Guarda un'altra storia Nel senso che Nel senso che là Il pubblico polacco Tra la pallavolo Veramente si dà Certo Anche quando non c'era La Polonia che giocava C'erano le altre nazionali Questo un po' in Italia 5.000 6.000 persone Sì sì Bello Un bel mondiale Ovviamente tu dopo Modena Vai a Milano Dopo Modena vado a Milano Sì Dopo Modena vado a Milano Si parte da Modena Il 6 Il 6 Giù sull'ultimo giorno di gara Qui è il 5 Si parte il 6 E si va a Milano Certo Dopo questa Full Immersion Puoi rientrare un po' A Catania Verrà un po' stretta Dopo aver visto Il top Guarda Devo dirti che Dovrò prendere due giorni di vacanza Perché i ritmi sono Molto alti Figurati che a Roma Giocando anche al mattino Perché facevamo tre partite al giorno Svegliavamo tutti Sette e mezza E andavamo a letto A luna di notte Perché poi alla fine delle partite C'è da lavorare C'è tanto da fare Creare bolletti Però guarda Con Tanti ma soddisfatti Perché a me Sicuramente È un ambiente Che è veramente bello L'alto livello Poi È fantastico Ma d'altronde È quello che manca a Catania Esatto Alla fine è quello che manca a Catania Perché tu vedi lì I bambini che comunque vanno A vedere la partita Ma manca a Catania E ingoglia poi tutti i bambini A giocare a pallavola Certo Che vedono gli idoli Scendono giù in campo Fanno fare gli autografi Le foto I selfie Adesso sono i selfie A più non posso Quindi è quello che fondamente Manca a Catania Per creare il movimento Per ricreare un movimento E ritornare Sì All'altro Ci abbiamo Dirigenti in gamba come te Ci abbiamo tante cose Quindi vediamo di Di sfruttare Io li ringrazio Siete troppo buone Di riportare Troppo buone Ma ce ne sono bravi dirigenti a Catania Sì certo Bisogna nemmeno solito Urire le foto Spero che non gli passi Io spero soltanto Che non gli passi mai La voglia di fare La voglia Ogni tanto viene un po' di scuola Bene Salutami Modena Che è stato il mio ultimo anno in A1 Ho giocato lì con Si chiamava Occhi Verdi Allora con Giobbe e Giovenzana Sì Giobbe e Giovenzana Guarda stiamo collaborando insieme Infatti mi ha detto Che senti Tiziana Digni saluta Perché sono stato io Il suo allenatore L'ultimo E allora saluto Un abbraccio Perché gli ho voluto Te lo saluto Mi voglio ancora tantissimo Saluta Tutta Modena Tutta la pallavolo Che ci conosce Che non ci conosce Buon lavoro E appena rientri Ti aspettiamo qui A Globus Qui in radio Senza dubbio Grazie a tutti E buona pallavolo a tutti Ciao Ciao E dopo questo primo assaggio Di mondiale Tramite la dirigenza L'organizzazione E l'organizzazione Stiamo provando a vedere Diciamo il mondiale Da tutte le angolazioni E quindi abbiamo Abbiamo il primo time out Tecnico La prima interruzione La prima interruzione musicale Vi facciamo ascoltare Fiorella Mannoia Con le parole perdute E poi pubblicità E poi tornate di nuovo qui con noi Ciao 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 Bill Sì è Pablo Onde sei tu? Non potrei farlo Oggi Perché sono All'interno del pò Vuoi farti capire? Pubblicizzati su Globus Radio Station Per la tua pubblicità Su Globus Radio Station Chiama il 349 14 43 134 Oppure lo 095 722 675 095 7 Baccalluzzo e venti La pirotecnica scenografica Lo spettacolo si veste di oro Solo da Baccalluzzo e venti Via Enrico Pantano 47 Catania Telefono 095 715 0414 All the old paintings on the tune They do the sundown stone Arti sonanti Media musicali di Ernesto Giannotta Il gusto che suona è Arti sonanti Piazza Vittoria Emanuele II Catania Telefono 095 35 23 711 Globus Magazine Cultura Scienza Politiche sociali Sport Musica E arte Globus Magazine Il tuo free press internazionale Ed eccoci qua Globus Radio Station Good morning Volei scusate Purtroppo siamo ancora sole Il nostro ospite Purtroppo deve aver avuto qualche problema Non ha potuto neanche avvertirci Dicevamo che aspettavamo Maurizio Ninfa Ex giocatore Grande adesso manager dirigente Ma purtroppo siamo sole E ce la dobbiamo cavare da sole questa volta Come quando giocavamo a pallavolo Siamo in grado Sole contro tutti E allora cosa è successo? È finita la prima fase? È finita la prima fase Quindi si sono composti nuovi due gironi Della seconda fase Se vuoi ti dico le squadre Che mi dici? Allora vediamo se riesci a non sbagliare Non lo sbaglio Anche perché leggo spudoratamente Due gironi da O Gironi che vengono creati Pull E e Pull F F La Pull E con Cina Se vuoi ti do anche punteggio a questo punto Eh sarebbe importante per capire come si sviluppa Sappiamo che i punti sono quelli che vengono portati Si portano in dote dopo la prima fase Quindi abbiamo Cina che guida tranquillamente a otto punti Poi abbiamo l'Italia con sette La Repubblica Dominicana Che ci ha battuto Adesso ne parleremo Nell'ultima partita del girone Di qualificazione Che ha battuto l'Italia per sette a due Però adesso ha sei punti Poi c'è il Giappone con cinque Belgio tre Croazia tre Azerbaijan due E Germania due Questa è la pull dell'Italia Diciamo che le ultime due sono già quasi con un piede Sì Diciamo che i risultati di questo primo girone femminile Prima fase femminile sono assolutamente diversi da quelli del maschile Che lasciavano ampio Ampie possibilità a un po' a tutte le squadre Mentre qui diciamo che la definizione è più netta E l'altra pull è un po' più complicata I ruoli e i livelli sono più definiti Sì la pull F invece abbiamo Stati Uniti con nove Quindi punteggio praticamente pieno Brasile otto Russia sei Serbia cinque Olanda tre Bulgaria tre Turchia due E Kazakistan A zero Anche qui comunque dovrebbero passare Insomma Russia Brasile Stati Uniti Sì E Serbia Ma no Passano ne passano tre Le prime tre Quindi sì sì Sicuramente Russia Sono diciamo un gradino Un gradino superiore Abbiamo visto una grande sfida Stati Uniti Russia Bellissima partita Una pallavolo di altissimo livello Rispetto alle altre partite Che erano state trasmesse dalla RAI Comprese quelle dell'Italia Bisogna comunque ammettere Che il livello di questi Stati Uniti Russia era senz'altro Superiore Una partita molto più divertente Molto più combattuta Con due squadre Veramente Veramente molto forti Con gli Stati Uniti Che hanno messo in mostra Una difesa Quasi maschile O totalmente maschile Ma c'è un motivo E tu lo sai Mi stai dando l'imbeccata Ovviamente perché L'allenatore degli Stati Uniti È il mito Diciamo Uno dei Forse il più grande Uno dei più grandi giocatori Al mondo Degli anni 90 Il famosissimo Karch Kiradi Che noi abbiamo visto in Italia Abbiamo avuto in Italia Abbiamo avuto il piacere Di vederlo Giocare con Con la squadra di Ravenna Con la messaggeria Messaggero Messaggero Messaggeria Era Catania Il mitico messaggero Ravenna Degli anni d'oro Del gruppo Grando ovviamente Il nazionale degli Stati Uniti Faceva della pallavolo La sua caratteristica principale Grandissima difesa Cioè su tutti i palloni E poi questo poi Lui lo ha trasformato L'ha trasportato Al beach Mi pare che ci sia Una particolarità C'è una particolarità Pare che sia Non pare Che non sia E' l'unico Giocatore al mondo Che ha vinto Che ha vinto le Olimpiadi Ma le ha vinte in due Diciamo settori diversi C'era vinto in indoor Ovviamente con gli Stati Uniti E sempre in coppia Poi con Non ci ricordiamo Non è importante Perché l'importante Era lui Esatto Cacch Kirali Ha vinto anche L'Olimpiadi Con beach volley E quindi lui Ha trasportato Ha trasportato La sua esperienza Si è visto nettamente Che gli Stati Uniti Come primo fondamentale E' la difesa Esasperata Quasi fastidiosa La Russia Fastidiosa perché? No fastidiosa Per l'avversario Perché attaccavano Palle sempre più forti Sempre più forti E loro erano sempre lì A tirare su E poi alla fine Ti snervi Alla fine O sbagli La butti fuori Non abbiamo visto il Brasile Che chiaramente E' il primo nel ranking mondiale Non ha vinto il mondiale Non ha mai vinto il mondiale Quindi questa sete di vittoria Potrebbe giocare a loro favore Campione uscente E la Russia Campione uscente E la Russia Anche qui è un colosso Ovviamente hanno perso Ha vinto gli Stati Uniti 3 a 1 La sfida Però c'è da dire Che la Russia Insomma Ha tenuto testa E quindi Non so Nel prossimo incontro Se il risultato Si va interrattato Cioè toro nella seconda pool Perché poi passano le prime tre Passano le prime tre Sorteggio Sì sorteggio no Eh beh Qui almeno il sorteggio Bisogna Le teste di serie Rimangono separate Quindi Chi vince Di questa seconda fase Rimane testa di serie Seconda e terza Vengono sorteggiate Quindi si potrebbero avere Gli stessi gironi Sì potrebbe capitare E poi tutto di un fiato Verso la finale Di Milano Che dice già Tutto esaurito Grande interesse Anche perché sappiamo benissimo Che la pallavolo È uno sport Prettamente femminile Infatti Diciamo Che su 370.000 Circa tesserati 280.000 Sono donne Del gentil sesso È lo sport Con più tesserate In Italia In Italia Sì Ora le prossime partite Le prossime partite Realizziamo la pool Che comincia domani Si è spostata un po' In giro per l'Italia Purtroppo Catania Come abbiamo già detto Rimasta fuori Abbiamo Bari Modena Verona Trieste Insomma Il girone dell'Italia È quello di Bari Infatti l'Italia Giocherà domani a Bari Contro la Azerbaijan E anche qui Primo risultato Dovrebbe assolutamente Essere a favore dell'Italia Poi abbiamo Le altre partite Sono Germania Contro la Cina La Repubblica Domitana Contro il Belgio Germania e Cina Diciamo quasi Insomma Pronostico bloccato A favore della Cina Anche perché la Germania Onestamente È una di quelle Che ha deluso di più In questa prima fase Ma sai Anche abbiamo detto La stessa cosa Della Germania Maschile Che poi si è ritrovata Allora Forse è meglio Che non parliamo Perché non siamo Più esperti di parlare Però in effetti La Germania Vista quest'anno In questo mondiale In confronto alla Germania Delle ultime edizioni Degli europei È sembrata un po' Più sottotono Assolutamente Allenata da un italiano Peraltro Guidetti Giovanni Guidetti Il famoso figlio Del professor Guidetti E poi cosa c'è? Chiude questo mercoledì Croazia Giappone Il Giappone No È la Cina Scusami Stavo dicendo Una cavolata Mostruosa Parlando di allenatori Importanti Abbiamo parlato Di Cacchichia La Cina Un'allenatrice Importantissima La famosa Jenny Lamping Che anche lei è stata In Italia È stata No È stata Per un anno O due Dichiarata la migliore giocatrice del mondo Ad esempio degli anni 90 E pare che tu E io la conosco Abbi avuto l'onore Di giocare con lei Di chiudere la tua carriera Con lei La conosco Molto bene Perché io Ho avuto la fortuna L'ultimo L'ultimo anno che ho giocato in A1 Sono stata appunto A giocare a Modena Si chiamava Occhi Verdi La squadra storica di Modena Quell'anno era sponsorizzata Occhi Verdi Io ho chiuso la mia carriera E lì Ero in panchina Dietro La famosa Marasi Maria Marasi Anche lei nazionale Molto più giovane ovviamente Di me a quel tempo Però è stata una bellissima soddisfazione Chiudere la carriera A Modena E c'era appunto Fra nella rosa Di questa Grandissima squadra C'era appunto Jenny Lamping Anche lei Anche lei a fine carriera Non era certamente La giocatrice di un tempo Ma assolutamente Una persona Indimenticabile Dal punto di vista Proprio dell'umanità Ma cucinava anche cinese Avete mangiato anche cinese? Si Indimenticabile È stata Una cena a casa sua A base appunto Di specialità cinesi Io penso di aver Assaggiato Pochissimo Poco niente Non era di moda Mangiare cinese Non andava di moda E comunque Lei ci ha provato In tutti i modi A farci assaggiare Diciamo che qua C'è stata qualche Qualche riluttanza E invece nel girone di Modena Che cosa ci dobbiamo aspettare? Quella lì È un girone Proprio di ferro Quello da lui Stati Uniti abbiamo detto Russia, Brasile, Stati Uniti Cosa ci può essere? Abbiamo detto Che sono le prime tre Quindi tutto sommato Non è che ci dovrebbero essere grosse Però ci saranno gli scontri Con Brasile Brasile-Russia Brasile-Stati Uniti Insomma è già un assaggio Di semifinale Come ha detto Ciccio Lui prevede questa finale Russia-Italia Noi ovviamente ci auguriamo Che una comunque sia l'Italia Poi che l'altra Non ce ne frega Praticamente nulla Noi ce lo auguriamo Però non ci esime Dalla possibilità Dalla possibilità di criticare No, vuoi essere critica No, criticare comunque Esprimere un giudizio Su questa nazionale Se posso permettermi Credo di poterlo fare Nel senso che Non sono tesserata Come dicono in televisione Come dico in televisione Ti assumi la responsabilità Di quello che dici Esattamente Io mi discosto Ancora sono una tesserata Esatto Io invece come tu sai Mi piace comunque dire Quello che penso Poi potrò anche sbagliare Ti vorrei ricordare Dico non per andare lontano Ma nel 1980 Io tesseratissima Eramo campione d'Italia Sono andata la domenica sportiva Intervistata dal famoso Beppe Viola E ho sparato Ma non a salve Contro tutti Contro tutti Infatti c'è stato un momento Che si pensava di darmi Una bella squalifica Poi Vabbè L'emozione La cosa Ero la domenica sportiva Ero la domenica sportiva E quindi Me la sono uscita Pulita pulita Comunque Paramai Io non Si può parlare C'è libertà di stampa Penso che possiamo Hai la facoltà Ti do il permesso Di criticare la nazionale Vai Lo fai tu E io sto zitta Non è una critica Io dico Quello che Che ho Che penso Insomma Le mie Le mie impressioni Innanzitutto È innegabile Che sia una Una nazionale Non giovane Non più giovane Ha una Una serie di personaggi Insomma Che hanno le loro Le senatrici La loro belle età Maschile ci sono i senatori Sì Però i senatori Possono starci Se ottengono risultato Voglio dire Io con tutto rispetto Per la Piccinini Grandissima campionesta Quasi ormai Del passato Non voglio dire Del passato Ma quasi Io l'ho vista giocare Un bel fisico Bellissima ragazza Fantastico Quello che vuoi Però Non è più La Piccinina Di tecchi d'oro Non è più La Piccinina di una volta Quindi Non puoi tenere in campo Una persona che Continuamente si fa murare O per non farsi murare La butta fuori O la butta in rete O proprio Non attacca Attacca di palleggio Cioè È veramente Secondo me Non è più Mentre anche l'alo bianco Anche come ruolo Per quant'altro Può stare ancora Decentemente in campo Pur essendo coetanea Però voglio dire Il ruolo anche Glielo consente Una persona che comunque Ha più oltre 500 Presenze in nazionale E lo dimostra tutto Sia nel tocco Devo dire Ma sia anche Nella scelta del gioco Con le giocatrice Che ha a disposizione È un ottimo Belleggiatore E lo conferma Anche pur avendo 35 anni Fa specie Nel senso Fa un po' Anche rabbia Che non ci sia Un ricambio Giovanile Diciamo Valido Se siamo stati costretti A richiamare Perché alcune Sono state richiamate Probabilmente Bonitta In corsa È rientrato da poco C'è stato Il passaggio Con Mencarelli Che è stato Un fallimento Pur avendo vinto Il mondiale giovanile Poi non si è riuscita A confermare Queste ragazze A livello senior Evidentemente Ha pensato Di andare sul sicuro E comunque Si è parato Quindi se escludiamo La Chirichella Che in effetti È un ottimo La Diuf Che deve stare in campo Non può stare fuori Sì sì È partita in panchina Non so se per scelta Strategica O perché Per una motivazione Proprio di valutazione Di Bonitta È partita in panchina Ma poi Si è guadagnata Assolutamente E comunque Ora vediamo Questa seconda fase Si gioca mercoledì Giovedì Pausa venerdì Poi sabato e domenica Grande chiusura E avremo La classifica Delle prime sei A questo punto Come sempre Abbiamo il nostro Time out Un altro stacco Tecnico A sedici Sì sì La musica La scelta La scegli tu Ascoltiamo Pump It Dei Black Eyed Peas E poi pubblicità E tornate qui Ciao 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 Sì 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 Vuoi farti capire Pubblicizzati su Globus Radio Station Per la tua pubblicità su Globus Radio Station Chiama in 349 14 43 134 oppure allo 095 722 6757 Farmacia San Mauro, cortesia e professionalità Cosmetica, fitoterapia e prodotti farmaceutici Farmacia San Mauro, Piazza Gelsi, Via Grande, Catania Callaghan Adaptation, la scarpa più comoda del mondo La scarpa Callaghan Adaptation Total, grazie al suo sistema unico al mondo Si adatta alla pianta del piede e con una distribuzione omogenea del peso Riduce del 50% la pressione sul tallone e sulla zona dei metatarsi Grazie a Callaghan Adaptation, i tuoi piedi tornano a sorridere Migliora la tua salute camminando con Callaghan Adaptation Centro commerciale ed ile Smontaggio amianto e bonifica sito Linea vita Sistemi anti caduta Lavorazione ferro Trasporto conto terzi Materiale ed ile Strada provinciale per San Giovanni Galermo 167 A Mister Bianco, Catania Per sopralluoghi Preventivi gratuiti Telefona 095 744 2740 Il tuo centro commerciale ed ile www.ccedile.it Globus Magazine Cultura, scienza, politiche sociali, sport, musica e arte Globus Magazine, il tuo free pass internazionale E dopo il secondo time out tecnico, Globus Radio Station Siamo sempre qui Io lo dico un'altra volta Siamo rimasti orfani 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 Perché noi abbiamo preso un piccolo cazziatone Perché l'ospite non è arrivato Non si dicono queste cose Si possono dire Sì Abbiamo la chat Però purtroppo siccome siete in tanti Non riusciamo ancora a rispondere a tutti Però piano piano ci organizzeremo Dobbiamo dire Che dalla prossima settimana Non facciamo più martedì e venerdì Ma lunedì e venerdì Venerdì è lo stesso orario La replica martedì e sabato Sempre le 17 E poi le partite di queste secotte Volevo ricordare Perché forse siamo stati un po' frettolosi Abbiamo detto soltanto uno dei due gironi Le partite soltanto del girono dell'Italia E comunque voglio ripetere Domani abbiamo Croazia-Giappone Facciamo Croazia-Giappone 2 Ah facciamola Croazia-Giappone 2 Anche perché noi ve lo diciamo Scommettiamo sulla pallavolo Si può scommettere Ci divertiamo Perdiamo sistematicamente L'abbiamo ancora vinto però Quindi ci proviamo comunque Quindi Croazia-Giappone abbiamo detto un bel due Repubblica Dominicana-Belgio Uno Perché sappiamo anche che si può giocare con i set Quindi diciamo un 3-1 Un 3-0 No 3-1 Io darei una possibilità al Belgio Poi Germania-Cina No 0-3 assolutamente Pronossico assolutamente bloccato Sì ma che Jenny non mi tradisca Se no le telefono subito Le faccio come dici tu Un cazzetone Diciamo che lo abbiamo snoganato Perché noi siamo in diretta streaming Ci potete vedere Ci potete guardare Potete chattare Potete fare quello che volete Quello che volete E poi? E poi Chiude Italia-Azerbaijani Pronossico bloccato 1 Esatto Per l'altro girone Che non avevamo ancora nominato Aveva un Brasile-Kazakistan Anche qui 3-0 Netto Proprio di brutto E poi Bulgaria-Russia Anche qui la Russia Penso che passeggerà tranquillamente Anche se la Bulgaria Non è sembrata pessima Però voglio dire la Russia È un grande La Russia se vuole rientrare Abbiamo la Cima La Torre Come si chiama? Gamova 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 E poi c'è la Miss Mondiale Che è la ragazza più bella La più bella pallavolista Forse un po' con la brasiliana Esatto Jacqueline Che Jacqueline ha un suo perché Però lei è veramente stupenda Spettacolo Uno spettacolo della natura E poi abbiamo Serbia-Olanda Qui Poi un pochettino Perché si giocano Sappiamo sempre Che comunque Anche chi non è interessato Direttamente a cercare di vincere il Mondiale Ha interesse a restare in una classifica elevata Perché sappiamo che poi partono Il ranking è importante La qualificazione olimpica E chiude Turchia-Stati Uniti Anche qui gli Stati Uniti A meno che di esperimenti Di cose Ma credo che Karch Il nostro amico Karch Sia abbastanza Non sia propenso Preparato a sopportare Un'attenzione mondiale E queste sono le partite quindi di domani Dopodiché Mi pare che abbiamo detto tutto Sì Mi pare che non ci sia Quindi possiamo salutare Ricordiamo lunedì e venerdì Della prossima settimana Io venerdì non ci sono E ci sentiremo al telefono Sola Mi organizzo con qualcuno Che possa Essere all'altezza Io sono a Torino E campionati Dei veterani Quindi non c'entra niente Non sto andando a vedere mondiali No Noi abbiamo questi bei campionati Bei veterani Over 35 40 E quant'altro E quindi ci sentiremo per telefono Per oggi abbiamo finito Abbiamo dato i risultati Abbiamo dato le schedine Abbiamo dato i numeri Nonostante l'assenza di Maurizio Ce l'abbiamo fatto Abbiamo avuto però Un competentissimo Ciccio Greco Che è veramente un fiore all'occhiello Per la dirigenza Perché ci vuole tutto Ci vogliono i dirigenti Ci vogliono i dirigenti federali Ci vogliono gente in grado di Organizzare Dobbiamo far ripartire la palla a vola La grande da Catania Ci ha dato uno spaccato sul mondiale Ok A questo punto abbiamo finito Grazie Grazie per averci sopportato Good morning volley Globus Radio Station Ciao 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 Good morning volley Le pizzo sotto rete La palla a volo secondo Globus Radio Station Guida al mondiale Questo programma è offerto da Callaghan Adaptation La scarpa più comoda del mondo La scarpa Callaghan Adaptation Total Grazie al suo sistema unico al mondo Si adatta alla pianta del piede E con una distribuzione omogenea del peso Riduce del 50% la pressione sul tallone E sulla zona dei metatarsi Grazie a Callaghan Adaptation I tuoi piedi tornano a sorridere Migliora la tua salute camminando con Callaghan Adaptation Arti sonanti Media musicali di Ernesto Giannotta Il gusto che suona è Arti sonanti Piazza Vittoria Emanuele II Catania Telefono 095 3523711 Centro commerciale edile Smontaggio amianto e bonifica sito Linea vita Sistemi anticaduta Lavorazione ferro Trasporto conto terzi Materiale edile Strada provinciale per San Giovanni Galermo 167 A Mister Bianco Catania Per sopralluoghi Preventivi gratuiti Telefona 095 744 2740 Il tuo centro commerciale edile www.ccedile.it Baccalluzzo e venti La pirotecnica scenografica Lo spettacolo si veste di oro solo da Baccalluzzo e venti Via Enrico Pantano 47 Catania Telefono 095 715 0414 All the old paintings on the tune They do the sundowns Don't you know If they move too quick Oh 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 They fall in the... Baccalluzzo e venti